Buongiorno amici runner, io sono Marcello Vendramin direttore scientifico di Freelife Energy. Freelife Energy è un'azienda che si occupa di produrre integratori di alto profilo, alta qualità delle materie prime e soprattutto l'attenzione a ridurre al minimi termini l'uso di coloranti additivi che rendono i prodotti che voi dovreste assumere sostanze tossiche. Per cui utilizziamo l'integrazione per fornire al corpo ciò che di bene ci può dare, ciò di cui il corpo ha bisogno per fare attività sportiva riducendo al minimo l'uso di sostanze chimiche. Oggi parliamo di Super Energy. Super Energy è un integratore di glucosio, fruttosio e potassio, energia allo stato puro, viene assimilato immediatamente in quanto è liquido, non contiene niente come amidi da digerire per cui non contiene sostanze da digerire, è immediatamente disponibile e quando può avere senso? Può avere senso subito prima dell'attività se sono arrivato all'allenamento senza aver introdotto nessun tipo di energetico. Mi sono dimenticato di fare lo spuntino, mi sono dimenticato la barretta energetica, arrivo al campo per l'allenamento, arrivo in palestra e so di essere in calo di zuccheri. Una fiala di Super Energy viene immediatamente diciamo disponibile per l'utilizzo. Altro momento per utilizzarlo è durante l'attività. Chi corre sa benissimo che se sto correndo e sto correndo velocemente rispetto al mio ritmo non posso mangiare, non posso mangiare barrette, non posso introdurre niente che mi impegni la digestione. Super Energy nasce con questo scopo, è energia che viene immediatamente assimilata senza impegnare il processo digestivo per cui abbiamo un integratore da utilizzare o subito prima o durante l'attività. I tempi di utilizzo sono molto soggettivi, ci sono atleti che ne assumono uno ogni 30 minuti, ci sono atleti che ne assumono uno ogni ora. Perché è molto soggettivo? Perché ha un proprio metabolismo, ha una propria velocità con cui brucia l'energia. Troppi zuccheri nello stomaco non vanno bene e chi ha esperienza di running sa benissimo come ritrovarsi ad avere il vuoto allo stomaco e il calo energetico. Per cui imparate ad utilizzarlo in allenamento perché in gara non si fanno mai esperimenti. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!